Amici di Battista 70 Phone, abbiamo qui l'Highway Pure, telefono con la particolarità di avere uno spessore di soli 5,1 mm, vedete che è veramente sottilissimo, ed un peso di soli 98 grammi, una piuma, facciamo vedere le finiture in alluminio, davvero molto ben curate, è un dispositivo veramente molto bello e fashion, abbiamo anche i tasti che sono dello stesso colore della cornice, veramente ben costruito, anche la scritta Wiko sul retro, è un monoblocco, possiamo vedere qui l'ingresso per la sim, la micro sim, la no sim, adesso non mi so dire, abbiamo un display da 4 pollici 8 AMOLED HD, devo vedere molto ben contrastato come colori, Corning Gorilla Glass 3, processore Qualcomm Snapdragon Quad Core da 1 GHz e 2, con 2 GB di RAM e 16 GB di memoria interna, cam posteriore da 8 megapixel con LED flash e anteriore da 5 megapixel, possiamo vedere che abbiamo un'interfaccia senza drawer, con una discreta fluidità, se non lo rischio male dovrebbe montare ancora kit e pet, andiamo a vedere 4.4.4, il nome del modello Highway Pure, devo dire che come dispositivo non è assolutamente niente male, è dotato inoltre di LTE, sarà disponibile da maggio 2015, con questo concluso, un saluto da Loris, di Salis Battista 70 per Battista 70 a fondo.